Una sconfitta per Milano, però Coach Bucchi avevi chiesto ai tuoi ragazzi lo stesso spirito delle tre imprese dell'anno scorso. Direi che al di là del risultato finale puoi essere contento. Abbiamo fatto una buona gara per tanti minuti, tante belle cose da cui ovviamente ripartire, da cui ovviamente concentrarsi per il futuro. Credo che sia una buona gara, una buona gara. Peccato perché alla fine effettivamente potevamo essere un pochettino più freddi, più cinici. Però di fronte abbiamo Panathinaikos che di sicuro mette a nudo ogni tua incertezza. Però credo che sia stata una buona partita, buoni spunti e altri segnali confortanti. Dopo qualche segnale già visto con Ferrara la squadra sta crescendo, dobbiamo continuare su questa strada. Circolazione, spaziature, tanta ottima difesa soprattutto nel primo tempo. Credo che forse da questa partita possa nascere l'idea di squadra che è in mente. Sì, ma queste sono le cose che volevamo. Purtroppo abbiamo un po' smesso di eseguire la fine. D'altra parte, ripeto, di fronte a avere il Panathinaikos, ripeto, ti mette un po' allo scoperto. Le cose che magari non riesci a fare nel migliore dei modi. E quindi dobbiamo cercare adesso di fare l'ultimo passo, il tentativo di migliorare nell'ultima parte della gara. Quella che alla fine ha visto invece vittorioso Panathinaikos. Quindi credo che il processo di maturazione stia continuando. Mi sembra un progresso evidente quello di oggi. Dobbiamo confermarci ovviamente domenica prossima a Caserta. Un'altra differenza rispetto alle prime due partite, credo che sia stato anche il contributo da parte della panchina. Sono entrati molto bene e hanno fatto la differenza tenendo in partita Milano anche nei momenti difficili. Sai, abbiamo tanti giocatori e tutti devono dare un contributo. Quindi la panchina oggi ha lavorato bene ma deve essere così sempre. Perché abbiamo bisogno ovviamente di tanta energia e giocando due volte alla settimana c'è bisogno effettivamente di fare un sforzo affinché tutti quanti possano avere minuti ma dare qualità alla squadra. Questa è la cosa che ci occorre giocando due volte alla settimana. Caserta poi trasferta in Germania nello spazio di tre giorni girate l'Europa. Una difficoltà sia sul piano fisico ma anche dal punto di vista nervoso. Assolutamente sì, è una faticaccia. Questo però è il bello e onore d'Oneri nel fare l'Eurolega. Quindi è bello farlo, è bello giocare contro il campionato d'Europa. Gli onori sono quelli di viaggiare tanto, di allenarti poco e di far tesoro nel giocare dell'esperienza appunto per cercare di migliorarti. Siamo con Mason Roca. L'anno scorso avete griffato tre imprese. Questa volta siete arrivati a cinque minuti dal sogno contro i campioni d'Europa. Sì, abbiamo giocato bene per la maggiore parte della partita. Poi siamo scivolati un po' alla fine. Però abbiamo mostrato l'intensità giusta che avevamo bisogno per affrontare una partita del genere. Di l'Eurolega contro una squadra molto forte, campioni d'Europa. Quindi dobbiamo usare questa partita per fare un passo in più. Perché c'è ancora molto di migliorare. Però abbiamo fatto anche buone cose stasera. Il tuo impatto uscendo dalla panchina è stato decisivo. Sei riuscito in qualche modo a limitare Pekovic che aveva fatto molti danni nel primo quarto. Com'è stata la sfida con il giocatore del Panatine Koss? Sì, lui è fisicamente molto tosto. Anche ha buoni movimenti. Quindi ho cercato di spostarlo più lontano dal canestro possibile. Di non farlo ricevere facile. Ho avuto anche aiuto dai miei compagni di squadra che c'erano lì per la rotazione. E così cercavo di limitarlo. Perché se prendeva la palla vicino al canestro c'era poco che potevo fare. Solo 40 minuti di Eurolega forse è un po' presto. Ma si può dire che questa squadra rispetto all'anno scorso è costruita e tagliata maggiormente per l'Eurolega? Rispetto a quella che abbiamo visto l'anno scorso. Sicuramente noi dobbiamo essere più squadra rispetto all'anno scorso. Dobbiamo cercare di circolare la palla. Abbiamo giocatori che possono giocare con il fisico ma anche magari più atleti. Quindi questo sicuramente potrebbe aiutarci nell'Eurolega dove è molto più fisico il gioco. Quindi però i fondamentali sono sempre quelli. Bisogna giocare di squadra. Stiamo migliorando però ancora abbiamo molto da fare. Il finale della scorsa stagione dal punto di vista tuo personale è stato un po' il calvario. Hai avuto tanti problemi fisici. Adesso come ti senti? Oggi devo dire che anche Pekovic ti ha messo alla prova con un sacco di sport. Vi siete dati un po' di botte sotto canestro. Quali sono le tue sensazioni dopo questa partita? Molto faticose immagino. Sì, mi sento bene. Ho avuto un inizio un po' lento nelle prime due partite. Adesso sono riuscito a giocare come so fare. Sto bene quindi spero di non avere più infortuni che posso dare il mio contributo alla squadra e di aiutare la squadra in qualsiasi maniera. Stasera portando magari un po' di intensità, aiuto in difesa così posso aiutare la squadra. Avete perso la prima casalinga però gli avversari erano i campioni d'Europa. Guardando anche le altre squadre credi che le top 16 possano essere un orizzonte abbordabile? Sì, io penso di sì. Bisogna difendere forte in casa. Bisogna giocare, portare via le partite che devi vincere e poi cercare di rubare quelli in trasferta. Sicuramente il gruppo è tosto. Ci sono buone squadre però sicuramente ci sono partite che possiamo e dobbiamo vincere. Grazie. Grazie. Grazie.